Per Natale Simonelli Editore non fa sconti ma fa regali perché a Natale si fanno regali come acquistando un certo numero di ebook se ne ricevono automaticamente in regalo altri. Facciamo un esempio. L'esempio è Sentieri di celluloide di Gio Denti, la fantastica storia popolare del cinema di Gio Denti che si articolerà in 12 puntate e che entro Natale avrà già pronte in vendita 7 puntate, le prime 7 puntate. Ebbene, se ne acquisterete 5 tutte insieme, automaticamente dopo l'acquisto riceverete in omaggio la sesta e la settima puntata. Riceverete quindi il completamento di tutte le puntate sinora uscite. Come procedere? Ma è semplice e anche semplice e curioso che gli ebook acquistati su Simonelli Editore si possono regalare ad altri. Voi acquistate e il vostro acquisto va alla persona alla quale la volete regalare. Ecco come procedere. Andate nella scheda dell'ebook di Gio Denti, ad esempio nella prima puntata di Sentieri di celluloide. Ecco, cliccate su Aggiungi al carrello. Quando siete nella pagina con il titolo Aggiunto al carrello tornate indietro e andate nella seconda puntata e cliccate sempre su Aggiungi al carrello, poi tornate indietro e aggiungete al carrello tutte le prime 5 puntate. Quando siete di fronte alla pagina con le 5 puntate aggiunte al carrello, cliccate su Compila ordine. Vi apparirà una pagina in cui vi si chiederà di mettere, di inserire il vostro codice fiscale, ma se siete una società e volete mettere la partita IVA, mettete la partita IVA e le coordinate della vostra società, nome, cognome, indirizzo, mettete anche un numero di telefono che c'è molto utile nel caso ci fossero dei problemi di trasmissione e poi vedrete che c'è la forma di pagamento che potete selezionare da carta di credito, potete scegliere anche la possibilità di pagare sul conto corrente postale o bonifico bancario, ma sotto vedete che c'è una domanda è un regalo, se mettete sì, inserite poi sotto l'indirizzo del destinatario del regalo, l'indirizzo di mail corretto e potete aggiungere anche un messaggio di augurio. Una volta fatto tutto questo, cliccando sulla scheda già compilata entrerete al pagamento del vostro acquisto, cioè verrete dirottati all'interno di una banca, in questo caso MPS, dove con la carta di credito Visa o Mastercard potete pagare subito il tutto, se preferite, potete pagare con bonifico bancario e su conto corrente postale e allora in questo caso riceverete le coordinate per fare il pagamento e anche le indicazioni su come notificarcelo. Benissimo, una volta fatto questo il destinatario del vostro regalo riceverà una e-mail con i link per scaricare i cinque e-book da voi acquistati della storia del cinema di Giodenti, le prime cinque puntate, ma subito dopo riceverà un'altra e-mail con i link per scaricare la sesta e la settima puntata, che sono gratuite. Grazie. 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 Grazie.